Troppo spesso siamo sempre là a criticare o a giudicare i figli, soprattutto gli adolescenti, per le maratelle che fanno. Invece a volte non ci rendiamo conto che all'interno delle quattro mura abbiamo degli eroi. Io ne ho uno qua a fianco. È questo il messaggio che Emanuela Dorigo lancia ai genitori perché quello che le è accaduto sabato farà fatica a dimenticarlo. Insieme al figlio Mattia di 12 anni, due giorni fa era in casa. Mattia si offre di preparare la cena. Come fa spesso, nel senso che a lui piace molto la sua ambizione è diventare un futuro chef. E al terzo boccone di tagliata praticamente mi si è piantato qui. Sono secondi di terrore. Mattia cerca di chiamare il 118 ma la paura non gli permette di comporre il numero. All'inizio avevo paura, ero nel panico, però gli ho tirato una pacca sulla schiena per vedere se il boccone cadeva ma non cadeva. Ho visto che con dei gesti mi diceva di chiamare aiuto perché non riuscivo neanche a parlare. Allora ho scavalcato il cancello dei vicini e con la mano ho battuto sulla porta per chiedere aiuto. Mentre il dodicenne spiega l'accaduto ai vicini, Emanuela esce in cortile alla ricerca di aria ma perde i sensi. Quella caduta però l'aiuta a liberarsi dal boccone. Come sono uscita io ho perso i sensi, sono caduta e poi non mi ricordo tanto bene nel senso che mi hanno raccontato che lui mi ha portato le coperte e che i miei vicini, di cui ringrazio di cuore, sono stati lì con me perché avevo tutto un tremolio sulle gambe e dappertutto. Nel frattempo i vicini chiamano il suo e me che in pochi minuti raggiunge l'abitazione. Emanuela viene sottoposta a tutti i controlli. Fortunatamente le sue condizioni sono buone e non è necessario portarli in ospedale. Un lieto fine dopo tanta paura. È finita bene, però bene grazie a lui che è riuscito nella sua tempestività a chiamare i soccorsi subito perché comunque ricordiamoci che ha 12 anni.